Cari spettatori, amici di Mariette, caroissimo pubblico, Buonasera, qui a Stellamato, nella prima parte del programma venuto direttamente dal caio la famosissima Molita del Sudan, una tanzatrice dell'Eto, Acompañato, come sempre, nella nostra orquestra Paul Silvestre, Régo Maestro, Alei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono molto, sono molto di cazzate, sono arrivato a Roma metti anni fa, sono qui per vivere, per vivere la mia vita, per mangiare, per lo soppucerino mio. Ma tutti questo giorno voglio invitare tutti gli amici in me per celebrare la mia vita. Amici, grazie, grazie per venire, grazie per andare con me alla Caffè Romana. La mia vita è stata molto speciale, con Marcello, con Brucciano, con Verena e Cirene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.